Resilienza applicata allo studio universitario per riuscire a resistere a tutte le fonti di stress che caratterizzano la nostra vita da studenti. Ne parliamo subito dopo la sigla. All'inizio di ogni video ti ricordo che, come sempre, il metodo di cui è disponibile e puoi trovare tutto quello che lo riguarda attraverso il link che trovi in descrizione. Quindi possiamo dedicarci all'argomento di oggi. Parliamo di resilienza. In modo particolare, come possiamo sfruttare questa che, in un certo senso, è un'abilità che possiamo sviluppare nella quotidianità del studio universitario. Allora, dobbiamo ovviamente partire dalla base. Ti voglio parlare rapidamente di cos'è la resilienza e poi vediamo come possiamo applicarla all'ambito universitario. E questo ti aiuterà in tantissimi aspetti, in tantissimi ambiti di quello che appunto è la tua vita da studente o da studentessa. La resilienza è la nostra capacità di resistere alle difficoltà che incontriamo durante la nostra vita e questo ci permette di superarle con successo. Quindi la resilienza non è esclusivamente il fatto di affrontare qualcosa e poi non essere in grado di superarla, ma anzi è proprio avere successo nonostante le difficoltà. Questo è un aspetto molto importante. Talvolta, senza usare termini troppo tecnici, c'è chi parla di resilienza parlando della capacità, dell'abilità di piegarsi ma non spezzarsi. Quindi non vuol dire negare delle difficoltà che talvolta possiamo incontrare, anzi è la capacità di accettarle e sfruttarne le caratteristiche a nostro favore. Quindi voglio parlarti proprio di questo e man mano che ci addentriamo nell'argomento di oggi vedrai come questo è essenziale nella tua quotidianità da studente o da studentessa e come poi dovrai anche a livello pratico svilupparla e quindi anche alimentarla. Quindi partiamo dalla prima strategia che voglio proporti. Innanzitutto c'è un tipo di stress al rispetto al quale dobbiamo appunto cercare di sviluppare la nostra resilienza che è uno stress negativo, possiamo dire, che è uno stress dannoso. Per utilizzare un termine più specifico si parla di distress. Quindi sono tutti quegli eventi, tutto ciò che ci capita che viviamo in modo negativo. Dobbiamo cercare di eliminare quelle fonti che poi creano questa forma di stress. Non sto scendendo volontariamente sugli aspetti dello studio universitario perché voglio parlarne più avanti nel video. Quindi intanto è importante capire, perché non tutti magari lo sanno, che lo stress non è sempre lo stesso. Ci sono delle forme di stress, tra virgolette, negativo, come quello di cui stiamo parlando in questo istante, quindi quello stress dannoso, sicuramente evitabile, e al tempo stesso c'è anche un'altra forma di stress ed è lo stress, tra virgolette, positivo. Quindi è uno stress che, se gestito nel modo corretto, appunto, se gestito in modo resiliente, ci permette di essere più produttivi di quanto non siamo normalmente. E quindi questa doppia dimensione dello stress è un punto di partenza e di consapevolezza essenziale per riuscire poi ad avere degli ottimi risultati a livello universitario. E adesso vediamo esattamente come. La terza strategia che si associa a quelle due che ti ho appena fatto vedere riguarda, in un certo senso, il conoscere ed accettare i propri limiti. Quindi sappiamo che c'è qualcosa che può stressarci e che in un certo senso ci tira verso il basso, ci tira giù, quindi è una forma di stress negativo, il distress di cui ti parlavo prima. Al tempo stesso c'è lo stress positivo, quello che possiamo chiamare in termini tecnici eustress. In ogni caso, dobbiamo conoscere quando è il momento di fare un attimo una pausa, rispetto non solo alla preparazione specifica di una materia mentre leggiamo il libro, ma proprio dalle situazioni e delle circostanze che dobbiamo affrontare. Questo ci permette di evitare che tutta la forma di stress sia solo negativo e non positivo. E quindi facciamo in modo tale di alimentare la produttività, la nostra produttività. Ecco allora che cerchiamo di capire come la resilienza può essere applicata al mondo universitario, allo studio universitario. Cerchiamo di fare quindi un po' un riassunto, partendo dal tipo di stress negativo. Ti faccio un esempio pratico. Se utilizzi delle tecniche che non sono buone, magari le hai utilizzate per tanto tempo e quindi hai una certa familiarità, ma non sono comunque buone, non sono quelle più efficaci, queste, proprio perché non ti permettono di ottenere gli obiettivi desiderati, ti porteranno a sviluppare appunto una forma di stress negativo e quindi quello che chiamavamo distress. Queste devi eliminarle. Devi assolutamente focalizzarti su tecniche di studio che invece sono molto più produttive, che ti aiutano a studiare in modo più efficace. Quali sono, per esempio, le tecniche che ti permettono, ne sparo una, ma tanto per farti un esempio pratico, se utilizzi per esempio l'active recall, che è qualcosa che ti mette sotto sforzo, quindi crea lo stress, ma non è uno stress negativo, ma è uno stress positivo, perché utilizzare l'active recall in modo corretto poi ti permetterà di avere i risultati che desideri. Ecco la differenza tra una tecnica buona e una tecnica che non va assolutamente bene. Devi utilizzare solo quelle buone. Queste ovviamente comportano impegno, quindi comportano stress, ma è uno stress positivo, produttivo appunto. E alla fine, come ti ho detto anche con la terza strategia, conosci i tuoi limiti. Se hai studiato per 2, 3, 4 ore e devi assolutamente fare una pausa, fai quella pausa, perché tutto quello che accumuli dopo, quindi lo stress successivo, non è uno stress positivo appunto, ma è uno stress negativo, che diminuisce la tua produttività e sostanzialmente non ti porta da nessuna parte. Quindi questo è quello che ti volevo proporre. Come vedi abbiamo fatto un buon excursus da qualcosa che sembrava generico, la resilienza, la capacità di adattarsi allo stress. In realtà questa la si può sfruttare, andando ad eliminare lo stress, tra virgolette, negativo, a favore di quello che ci permette di essere produttivi e questo in sostanza ci permette di essere resilienti. Ci sono delle difficoltà, le affrontiamo nel modo corretto, anche ovviamente conoscendo i nostri limiti. Quindi questo era l'argomento di oggi, spero ti sia piaciuto e ovviamente se hai dei dubbi, delle domande, fammi sapere nella sezione dei commenti. Ovviamente ti invito sempre a dare un'occhiata al metodo di QE e con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani.